E benvenuti in questo nuovissimo video! Ma vedi, bella! Che c'è il mio video? Che fai? No, te ne puoi già andare, perché... No, io non le preglie! Queste sono le mie casse... Ma questi sono i miei soldi, wow! I tuoi soldi, ma che stai dicendo? Eh? Hai 7.000 euro! Sì, perché prima ce l'avevo 5.000 euro! Ma come? Devi andare a scuola! Eh, no! Sì! Eh, no! Perché no? Ma no, ma io vero qua, ora... Oggi non vi ho detto cosa farò... Questo è il mio cagnolone! Che bello, lo puoi prendere in braccio! Lo so... Allora, oggi non farò l'adulto... Ma oggi farò... No, non farò il bambino di andare a scuola lì... Ma oggi non ucciderò... Non prenderò persone cattive... Farò soltanto a tipo un mondo, dove siamo ora... Hai pure la macchina! Eh, certo con le macchine! Allora... Scusate ragazzi, in questo periodo ormai... Un po' di persone sono raffreddate... Infatti Giada è raffreddata... Però... Non più stare subito ammaggiata... Però dai! Non lo farò apposta! Sei un bruncante! Ma te ne hai fatto... Sei un cane! La piccola che non può mangiare assai... Dai, vai, vai! Fai un poco di palestra! Come si caccia sto schifo qua? No, no... No, no... Compute! Eh, come compute? L'hai buttato? Eh, allora no, computer! Compute? Che computer! Allora... Giada però, non lo farò apposta! Ah, mica lo faccio apposta! Oh, mi... Voglio un abito antico! Cioè... No, quello là volevo! Oh! Che schifo! Ho capito che questo è un gioco cinese, però... E' un piccola posto! Ma lasciamo stare! Ecco, ecco! Ah! Non era bello! Ecco qua a posto! Ho le Nike! Mascherina! Che cosa ho qua? Mascherina a posto! Andiamo! Che qua siamo in Cina! Quindi c'è la mascherina! E... Allora... E... Oggi andrò... Che so... Andrò a comprarmi qualche cosa da... C'è la tua macchina! Ah, sì! La mia macchina blu! Ovviamente che dobbiamo camminare... E... Bene, no? Vai in montagna! No, che ho in montagna! Vai in chiesa! Sì, in chiesa! Che sì! Vado a pregare subito! Con tutti i problemi che... Questo qua è il mio appartamento! Allora... Però... Peccato ragazzi che non si può giocare online se non ci sono... Eh... Io glielo ho scritto su Google... Su Play Store... Sì nei commenti che io voglio... E tu l'hai pure fidanzato, vero? Dove? Sì, c'è... No! Ah, no! Non voglio a nessuno! Io voglio stare da solo! Dai! Marcheggiamo! Dove sei al bar? Eh... Bella! Di mattina si mangia! Ma... Già! Ma come ridi? Allora... Ma... 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 Allora... Vediamo... 700 euro costa assai stacina! Eh... Ma costa, costa... A bocca... Mangia! Devi prendere... Ecco, mangi! Mangio... Grazie! Devi prendere solamente un caffè la mattina, però... Vabbè! No, vabbè, dai! Mangio una cosa... Molto buona! Buona, non so! Ti stai vicino e mi passi la fredda! E 700 euro per una... Ma... Non è vero! Ma che è sto schifo? Che so... Bianco e nero! In Cina lo fanno sto qua! Buono, buono! Forse è una ciambella! Ora... No, scusa! Ora... Scriverò... No! No, non ti vuole seguire! Questo! Yo, stop! Aspetta! Vabbè! Hello! Ciao! Hug! Ok! Visto che sono bravo con le persone... E guarda che pettorali ho dietro! Mamma! E poi i miei capelli sono così! Cioè, davanti sono ugualissimi proprio così! Però non ti vesti così, questi fatti! Ah! Ti vesti così da più! Belli, che ti appena... Dicono i vecchi! No, però... Non sono contro i vecchi! Perché pure io sarò vecchio! Quindi non è che... Contro gli anziani! Però... Eeeh... Ah, no! Allora, veramente io mi vesto all'antica! No, non è vero! Una maglietta! Con un pantalone! Non pezzi! Mamma, quello non ce l'hai tu! Quelle non le comprendi! Non le comprendo! Perché quello serve! Allora... Andami in montagna! Che voglia di montagna! Che voglia di montagna! E metterla, puoi, è già la montagna! Io sentire... Tutto fresco! Non voglio andare con la suora che poi mi abbraccia! Ragazzi, puoi fare anche io un video su questo? Eh, sì! È un mondo grandissimo! Pieno di casi! Pieno di appartamenti! Pieno di hotelle! Ah! Allora, che può essere che... Ancora non abbiamo scoperto tutto! Perché... Io non ho scoperto ancora tante cose, però... Allora, giriamo, andiamo in montagna, perché da qua si fa la montagna! Già, adesso ti metti accanto in un cavolo! Eh... Eh, non ho fatto niente! Vabbè, dai! Una persona... Devi salire dall'altro strato! No, da qua! Eh, che ho detto! Ah! No, perché avevo pensato... Ok, ragazzi! No, qui stavo dicendo una cosa, però non ho... A parte il video! Allora, ora scendiamo da qua! Non so dove sta andando, questa è una parte nuova! Già, da basta! E mi passi l'affreddore! E poi te la vedi con me! Ma se tu che ne hai passato? Eh, ma io mi sono stato un bel po' con il raffreddore! Ed è brutto, ragazzi! Non mi interessa! Però, con tutto il raffreddore sentivo... Non mi interessa! Va bene! Prego! Guarda quel piano di quelle cose! Di quelli cose! Vabbè, devo fare il mondo nuovo! Può capitare che poi... Già... Ragazzi, Giada è femmina! Non è maschio, non aveva paura! Allora, una carta! Ragazzi! Dai, Giada! Allora, Giada è femmina! Non vi spaventate! Perché fino a prima ha fatto un rutto! Non mi interessa! Pure là io non una volta l'ho fatto! Ma io là ho chiuso un occhio perché è maschio! Va bene! Si possono fare... E tu pure sei femmina! Ma ma ammazzati! E tra maschi si può fare... Ma non è una femmina che mi fa un rutto! Non c'è l'orecchio! Non so! Ragazzi, non è una mia colpa! Non l'ho cresciuta io! Però... Manco mia mamma l'ha cresciuta! Guarda! Perché è una strada! No! Si! Mi mamma ti ha preso per strada! Fai schifo! Fai schifo! Sei una scimmia! In questa casa non ti puoi entrare! Ti ha preso dallo zoo! Perché sono visitate! Si sono visitate! E fanno dove voglio! E ora... Mi sto incavolando! E quando uno si incavola va troppo veloce! E cosa è quell'hotel? Bene, sono entrato! Non c'è manco un'animativa! Ciao signora! Ora ma meglio... Allora, ciao! Hello! Fai hug! Ah, presto a dia! Stop! Mi ha detto... Come? Ha detto no! Lo so! Carri! Sì, a carriola! Carri! Allora... E questo... No, non era questo quello per... Devi fare questo! Love! Eccolo qui! Ecco qua! Vedi che contenta! Ora... Carri! Ecco qui! Visto come so prendere le donne io! Ug! Ora! Ok! E questo? Ok! Va bene! Cosa è successo? Ok! Siete lì! Già! Non vuoi vedere così però! Sto facendo il nevo così! Basta! Non vuoi che il corpo è mio! Basta! Corpa tua! Te ne devi andare! Devi buttarla dalla finestra! Esiste la finestra in questa casa! C'è tante case senza finestra! Ma qua c'è la... Ma per te esiste! Ah, io guarda! Manco capo! Te la apro tutto! Forse si calano allora sì! No dai! Non sono così grosso! Ora non esageriamo! Dada! Ti faccio aumentare l'affreddore! Dada! Ti faccio aumentare l'affreddore! Ti faccio aumentare l'affreddore! Ti faccio aumentare l'affreddore! Non maschi pure! Sono rossi! Sono rossi! Blu! Grigio! Guarda che bello! Rosso fuoco! Guarda che bello! Oh! Gode questo Gode! Oppure tutto nero! Mi fa godere! Oppure blu scuro! Schifo! Che schifo! Wow! Lasci la così così così! Ah no! Un pochino! Blanca! Bianca! Bianca! Questo? No! Fa proprio schifo! Che schifo! Che schifo! Vengono tutte le api! Ma che api! Oh che stra! Andiamo? Andiamo! Guarda che bella! Mamma! Mi piace il giallo nei giochi! L'aiu! Questo gioco! Oh già! Ha fatto un altro root! Non è vero! Senta a me! A posto! Te ne puoi andare! Ettore! Ma non è vero! Hai rotto! Va bene! Può essere che non è vero! Però! Può essere pure che non è vero! Può essere che è vero! Ma può essere che non è vero! Ma non è vero! Senti male! Va bene! E sento pure male! Giochiamo! Andiamo a giocare! Andiamo! Andiamo! Allora! E si è rotta un pochino la macchina perché già mi ha fatto distrarre! Allora l'ho investita! E... Oh! Scusa! Ma può capitare a tantissime persone che posso investire in macchina mentre non se ne accorgono! Però io non mi sono fermato perché devo andare a aggiustare la macchina che è più importante! E... Poi! E se non la aggiustiamo se ne rimane così tanto... Tanto che fa... Beh! Non sta facendo... No! La macchina! E poi non c'è manco una persona che è morta! Che l'ho ucciso io! Vedete? Tanto va veloce! Poi quella vecchietta l'ho trapassata e non ho fatto niente! Perché quella abbiamo scoperto che è un fantasma! Perché se no si poteva uccidere! E poi... Giada che sta facendo? Ha buttato un pirito a posto! Scherzo! E... Comunque scherzo eh! Ora... Fermiamo perché qua si gira! Vedete qui! E... Comunque ragazzi volevo dirvi... Non ve l'ho mai detto! Mi spiace! Comunque mia sorella è un segreto! Che non sanno tutti! Soltanto mia sorella! Mia sorella... Non è mia sorella! Veramente era una mia amica! Poi ho detto... Non è vero! Poi ho detto a mia mamma puoi adottarla! E ho detto va bene! Perché era una poveretta nella strada! Non è vero ragazzi! Era una sci... Che scemo di... Era una scimmia! Non è adottato! Che scemo! Sì è che c'entra! E scusa! Che vuol dire? Poi... Allora... Comunque ragazzi io preferisco meglio Conte! Draghi già sta cominciando male! Conte e il principe! Il principe è marrone! Perché ha gli occhi marroni! Però... Allora no! Perché... Ora vi dico perché! Perché... Conte era... Non so... Già... Per me poteva essere già un amico per me! Era bravo! E gentile! Draghi... Ma anche è venuto e già sta... Sta cominciando male! Vuole cacciare il reddito! Vuole che poi a me non mi interessa! Perché sono piccolo ancora! Poi... E... Vuole chiudere le scuole! Questo mi interessa! Vuole chiudere le scuole ragazzi! Ma ribelliamoci! Intanto noi bambini! Però vabbò dai scherzi! Però... Ora... A parte i scherzi... La macchina fa schifo! A parte i scherzi... Draghi... Mario Draghi! Non state pensando ai draghi! E non mi piace tantissimo... Come... Come lavoro poteva fare un'altra cosa! Però... Eh no! Era meglio Conte sì! Oh! Vecchietta! Che devi fare con quel coso? Ti supero meglio io! Già no! Finisce così! Mi fa in cavolo! Comunque... Stavo dicendo che... Scrivete nei commenti! Cosa è importante scrivete nei commenti! E se preferite Conte o Draghi! Scrivete Mario! Perché Draghi... Non so... Poi mi confondo! Perché hanno scritto Draghi? Poi mi scordo perché... Mario! Mario Draghi! Come ho detto! Però dai! E... Scrivete nei commenti! Perché io... Già... No! No! Già! Sto telefono ha un microfono potente! Ti hanno sentito! Pure quando prima hai fatto un ruttito! Ma tutti autostrade le sto prendendo! Due cattivi mi vogliono ammazzare! Due cattivi mi vogliono ammazzare! Vabbè ragazzi! Spero che il video vi sia più tu! Noi ci vediamo nel prossimo video! Quando vedo! Ciao!